Ciao, io sono Stefano e oggi vedremo insieme la seconda maglia della squadra campioni d'Italia per la stagione 21-22, cioè il Milan, nella versione FUN, ovvero la versione un po' più economica dedicata ai tifosi che vanno allo stadio. La maglia da trasferta del Milan, targata Puma, denominata Golden Kit, combina i colori Afterglow e Tango Red. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un colore tra oro chiaro e beige, mentre il Tango Red è una tonalità rossa standard. Viene meno dunque il mito della seconda maglia bianca per il Milan, per quanto questo oro avorio possa avvicinarsi. Il colletto è a girocollo, senza inserti in contrasto, proprio come quello della prima maglia del Milan. Il rosso compare sulle spalle, sull'orlo delle maniche e sul main sponsor Fly Emirates, mentre il nero colore i loghi di Puma e la stampa di nomi e numeri. Il coloretto del collo è applicato la scritta Fondazione Milan dorata. Bellissima! Questa maglia, nella mia personale classifica, prende 4 stelle. Volevo darne 5, ma per il momento mi fermo a 4. Questo colore è molto bello, in televisioni sembra quasi bianco, ma devo dire che invece è particolarissimo e molto molto bello dal vivo. La maglia, come al solito, è fatta benissimo, le rifiniture sono giuste, le patch sono corrette, le cuciture non dà fastidio e incredibile si trovi al costo che vedete qui sopra, praticamente un rapporto qualità-prezzo quasi imbattibile. In descrizione vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per poter acquistare la maglia e vi ricordo che seguendo il link che trovate in descrizione potete intanto ricevere uno sconto e puoi aiutare il canale a fare le prossime recensioni in futuro. Ora, prima di lasciarvi, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Grazie a tutti!